1 miliardo e 780 milioni di euro per le aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016-2017 nel centro Italia che grazie al fondo complementare al PNRR si aggiungono alle risorse già stanziate per la ricostruzione delle case, delle opere pubbliche e agli altri investimenti previsti dal recovery plan. A gestirlo sarà la cabina di coordinamento integrata, composta dalla cabina del Sisma 2016 con i presidenti delle quattro regioni, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ed i rappresentanti dei sindaci, delegati dalle ANCI regionali, integrato dal capo dipartimento Casa Italia dal coordinatore della struttura di missione per il Sisma 2009, dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere 2009 e presieduta dal commissario straordinario per il Sisma 2016 Giovanni Legnini che si è insediata nelle ultime ore. Si tratta di una governance multilivello che in virtù di una scelta molto innovativa del legislatore riunisce tutte le rappresentanze istituzionali dei due carteri e che sarà chiamata a programmare l'utilizzo delle risorse e selezionare i progetti per il rilancio e lo sviluppo di tutte le aree del centro Italia colpite dai sismi. Entro il prossimo 30 settembre dovranno essere definiti i programmi unitari di intervento per l'utilizzo dei fondi stanziati pari ad un miliardo per quello relativo a città e paesi sicuri, sostenibili e connessi e a 780 milioni di euro per gli interventi di rilancio economico-sociale. Gli interventi finanziati col primo programma riguarderanno la progettazione urbana, illuminazione sostenibile, impianti per il recupero dell'acqua, strade eco-compatibili, sistemi verdi, l'efficienza energetica degli edifici pubblici ed in particolare delle scuole, piani integrati di mobilità e trasporto sostenibile, le smart cities, la telemedicina, la teleassistenza, il sostegno alla prevenzione dei rischi, la promozione delle infrastrutture digitali. La seconda linea di interventi invece finanzia con 700 milioni di euro le economie di settori produttivi locali attraverso la valorizzazione delle vocazioni territoriali, delle risorse ambientali, del sistema agroalimentare e il rafforzamento della formazione tecnica, il sostegno alle imprese culturali, turistiche e creative. È prevista anche la realizzazione di quattro centri di alta formazione universitaria, un centro per la formazione della pubblica amministrazione, lo sviluppo delle attività di volontariato, la creazione di nuove associazioni fondiarie per lo sviluppo della filiera del legno. Si tratta di misure aggiuntive rispetto a quelle previste dal piano di ripresa e resilienza da 191 miliardi di euro finanziato con il Recovery Fund europeo, che riguarda l'intero territorio nazionale con gestione da parte dei ministeri. Per evitare sovrapposizioni e duplicazioni si avvierà un coordinamento con i soggetti attuatori degli interventi previsti dal PNRR per il miglior utilizzo delle risorse specifiche nelle aree dei due sismi.